Per modificare il numero di telefono associato alla tua firma remota, collegati alla pagina selfcare.firma-remota.it. Inserisci il nome utente indicato in fase di attivazione del tuo account di firma remota, la password e clicca su Login per accedere. Dal menu di sinistra, clicca su Telefono. Nella schermata che si apre, digita la password del tuo account di firma remota e prosegui. Poi, inserisci il codice OTP generato dal dispositivo associato al tuo account e clicca su Confirma. Nel pop-up visualizzato, inserisci il nuovo numero di telefono preceduto dal prefisso nazionale e confermalo. Il numero di cellulare rappresenta un canale di contatto riservato e un importante fattore di autenticazione. Pertanto, deve essere riconducibile ad un'unica persona. Non è possibile inserire il numero di cellulare assegnato ad altra persona titolare di una firma remota a Aruba, in quanto il sistema blocca la modifica e fornisce un messaggio di errore. A questo punto, riceverai un SMS al nuovo numero indicato, contenente un codice segreto da inserire alla schermata visualizzata. Il codice segreto ha una validità di 15 minuti. Se non lo utilizzi entro questo lasso di tempo, è necessario ripetere la procedura dall'inizio. Clicca nuovamente su Conferma per concludere la modifica. L'operazione è stata eseguita correttamente e il numero di telefono è aggiornato. Clicca su Chiudi per chiudere la pagina.